buongiorno e benvenuti in questo nuovo video dell'angolo delle sponsorizzazioni oggi abbiamo il canale di derobbio sport tv come si può vedere un tifoso dell'inter e nei suoi video naturalmente è un commentatore dove valuta dalle sue opinioni e le sue ragioni sulle partite che comunque riguardano l'inter e via dicendo e non solo non solo perché come sapere qua nel primo video abbiamo un commento tra lazio di nese e fa il paragone e dettagli dei punteggi delle varie squadre comunque diciamo delle risalite e della discena di alcune squadre nel campionato è un canale che che parla di calcio ma ben tutti possono andare a farci un giro perché avere maggiori informazioni in più va bene abbiamo anche qualche altro video interessante tipo la moto gp io più più scende più troverò altro formula 1 e via dicendo per cui non è solo calcio come si vedrebbe dall'inizio ma pian piano scendendo abbiamo comunque che è uno sportivo affiatato derobbio sport tv 841 iscritti campanella in attiva guarda il banner con lui che presenta il suo canale dovete solo iscrivervi mettere un like commentare e guardare i suoi video e aiutarlo a crescere detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video bella raga alla prossima ciao